Benvenuti a Radio Puggino NER dove esploriamo le analisi più incisive e le opinioni più stimolanti del panorama politico italiano e internazionale. Oggi ci concentreremo su un editoriale di Marco Travaglio intitolato Mangino Cannoni. In questo pezzo Travaglio offre una critica tagliente delle politiche europee e delle loro conseguenze utilizzando il recente scenario elettorale tedesco come punto di partenza per una riflessione più ampia. Analizzeremo passo dopo passo le argomentazioni di Travaglio cercando di cogliere le sue osservazioni e le implicazioni delle sue critiche. Naturalmente analizzeremo insieme e leggeremo alcune frasi estratte da questo editoriale che poi potete leggere completamente su Il Fatto Quotidiano. Allora il primo estratto che voglio leggervi è questo. Scrive Marco Travaglio Sorpresona anche in Turingia e Sassonia come da 15 anni in tutto l'Occidente gli elettori hanno votato contro chi li sgoverna scrive Travaglio decimata le SPD del cancelliere Schulz estinti liberali e i verdi nel senso di verde militare CDU superata e guagliata dai fasci dell'AFD boom del WSV di Sara Wagenknecht astro nascente della nuova sinistra sociale pacifista critica sugli eccessi green e rigorosa sull'immigrazione. Insomma l'editoriale di Travaglio questo editoriale già dal titolo accattivante Mangino Cannoni si apre con una contestazione di fatto in Turingia e Sassonia come molte altre parti dell'Occidente gli elettori hanno punito i partiti al governo un trend che dura ormai da 15 anni Travaglio elenca i principali perdenti l'SPD del cancelliere Olaf Schulz i liberali e i verdi che in questo contesto vengono descritti ironicamente come i verdi militari per sottolineare la loro contraddizione tra le politiche ambientali e il supporto invece alla guerra d'altra parte Travaglio evidenzia la crescita di partiti considerati estremisti come la FD il BSV guidato da Sara Wagenknecht questa apertura serve a contestualizzare dunque la critica di Travaglio non si tratta solo di un'analisi elettorale ma di un giudizio sulla direzione politica generale dell'Europa che secondo lui ha condotto a risultati disastrosi Sara Wagenknecht viene presentata come un'alternativa alla sinistra verde eccessivamente progressista e alla destra militante offrendo una visione alternativa che combina il pacifismo con una politica rigorosa ma leggiamo ancora cosa scrive Marco Travaglio siccome sia AFD sia BSVU sono stili al bellicismo russofobo dell'Unione Europea i giornaloni fantasy li chiamano i putignani è più comodo scomunicare piuttosto che capire e ribaltare le politiche europee quelle che in 30 mesi di guerra e riarmo ad oltranza hanno trascinato la Germania e tutti noi in recessione mentre la Russia cresce del 4% gli stipendi del 18% e teme una crisi da pil eccessivo la gente ha fame e paura? la risposta non è più mangino brioche e mangino cannoni l'ha ripetuto anche ieri Draghi che è tutti loro Travaglio accusa i media dunque mainstream di etichettare come putignani quei partiti che si oppongono alla politica aggressiva dell'Unione Europea nei confronti della Russia secondo Travaglio questo termine viene usato per evitare una discussione e per delegittimare le critiche al corso politico attuale la critica di Travaglio si concentra sulla gestione della guerra in Ucraina e sul riarmo europeo che avrebbe avuto effetti negativi sull'economia portando alla recessione in Germania e altrove la frase mangino cannoni che dà il titolo all'editoriale è una provocazione che richiama il noto detto se non hanno pane mangino brioche usato per sottolineare l'insensibilità verso le difficoltà economiche delle persone Travaglio usa questa espressione per criticare la risposta dell'elite politica e dei media alle difficoltà economiche e alle paure della gente comune suggerendo che la loro soluzione è continuare ad investire in armamenti piuttosto che affrontare i veri problemi Draghi viene citato come esempio di questa mentalità con l'accusa di continuare a sostenere la spesa militare nonostante le difficoltà interne questo è un attacco diretto alla classe politica europea accusata di ignorare le conseguenze delle proprie politiche scrive ancora Marco Travaglio e quell'altro genio di Schultz eseguita ad armare Kiev anche ora che la sua magistratura ha le prove della matrice ucraina dell'attentato al gasdotto russo tedesco Nord Stream un attacco terroristico che dovrebbe far scattare l'articolo 5 della Nato per dichiarare guerra a Zelensky e non a Putin Travaglio non si limita a criticare le politiche economiche ma estende il suo attacco alla gestione della guerra in Ucraina accusando Schultz di ignorare le prove che indicano una possibile responsabilità ucraina nell'attentato al gasdotto Nord Stream l'editoriale suggerisce che un attacco così grave dovrebbe portare a una risposta militare formale secondo l'articolo 5 della Nato ma in modo paradossale contro l'Ucraina e non contro la Russia questa accusa rappresenta un escalation nella critica di Travaglio che mette in dubbio la legittimità e la coerenza della risposta dell'Occidente alla guerra in Ucraina la sua osservazione evidenzia un conflitto tra le politiche ufficiali e le informazioni disponibili suggerendo che la classe dirigente stia operando in modo irrazionale ed autolesionista e scrive ancora Marco Travaglio non contenti delle sberle prese dalla Brexit alle europee gli europirla restano ostaggi della coalizione a ripetere e a suicidarsi sentite quel gigante di gentiloni ex qua della peggiore destra europea e ottimi risultati della peggiore sinistra in Sassonia e Turinja amici dei russi in quella che fu la Germania satellite dell'URSS nemici dei migranti nell'area tedesca con meno immigrazione vince il rancore contro tutto e tutti in questa parte Travaglio critica la classe politica europea per non aver imparato dalle sconfitte recenti come la Brexit e le elezioni europee e per continuare a seguire le stesse politiche che hanno portato al disastro la definizione di europirla è una chiara denigrazione della classe politica europea accusata di essere incapace di adattarsi e di continuare a commettere gli stessi errori Gentiloni viene preso di mira per le sue dichiarazioni che Travaglio considera una prova della sua ignoranza della sua incapacità di comprendere le vere cause dei risultati elettorali Gentiloni descrive i risultati in Sassonia e Turinja come un successo della peggiore destra e della peggiore sinistra accusando i partiti locali di essere amici dei russi e nemici dei migranti Travaglio ridicolizza quest'analisi suggerendo che Gentiloni e altri leader europei siano distaccati dalla realtà e incapaci di riconoscere le proprie responsabilità e Travaglio continua dicendo decide lui quali sono le destre e le sinistre migliori quelle che da cinque anni gli garantiscono 25.000 euro al mese per dire queste scempiaggini poi va a nanna tutto contento di aver copiato il compitino sotto il suo tweet mani pietose lasciano frasi lapidarie ma se siete così bravi perché il popolo non si fida di voi? mica vorrà dire che il popolo è idiota, vero? Vince qualunque cosa purché sia lontana anni luce da voi mai che si facciano due domande Travaglio accusa Gentiloni e altri leader europei di essere completamente scollegati dalla realtà di prendere decisioni basate su considerazioni personali e finanziarie piuttosto che sul reale interesse per il bene pubblico d'altra parte è quello che diciamo di ogni politico dal piccolo comune all'Europa al mondo intero non so se ci fosse ci fosse anche un leader del mondo intero o un leader dell'universo forse sarebbe la stessa cosa un po' ovunque a quanto pare l'editoriale sottolinea quanto Gentiloni guadagni per promuovere le sue idee suggerendo che il suo lavoro è più orientato a mantenere il proprio status e il proprio reddito piuttosto che a risolvere i problemi reali le reazioni sui social media secondo Travaglio riflettono un crescente scetticismo e disillusione verso i politici europei con cittadini che esprimono il loro disprezzo e la loro frustrazione dunque questo passaggio dimostra come Travaglio percepisca la distanza tra la classe politica e il popolo e come questa distanza si traduca in una crescente perdita di fiducia ma leggiamo un ultimo estratto da questo editoriale dove Travaglio dice gli elettori li schifano loro li insultano e la volta dopo vengono schifati il doppio pensano che il loro dovere sia commentare le elezioni come al bar e se non li soddisfano inventare giochi di palazzo per ribaltarle anziché domandarsi perché l'elettorato vota così e cosa hanno fatto per offrirgli alternative migliori se no dovrebbero guardarsi allo specchio confessare e ritirarsi o scusarsi e cambiare politica troppa fatica meglio prendere sul serio l'aforisma di Brecht che fra l'altro era tedesco il comitato centrale ha deciso poiché il popolo non è d'accordo bisogna nominare un nuovo popolo l'editoriale di Travaglio scusate si chiude con una critica finale alla classe politica accusata di ignorare le vere ragioni del malcontento elettorale e di limitarsi a criticare i risultati invece di riflettere su come migliorare Travaglio denuncia una mentalità di insensibilità e di disprezzo verso gli elettori che viene rappresentata come una sorta di coazione a ripetere che porta solo a ulteriori fallimenti il richiamo all'aforisma di Brecht serve a sottolineare quanto sia drammatico e disconnesso il comportamento della classe dirigente che si comporta come se potesse semplicemente cambiare il popolo piuttosto che riconoscere e affrontare le proprie mancanze in conclusione l'editoriale di Marco Travaglio Mangino Cannoni è un duro attacco alla classe politica europea e alle sue politiche che secondo Travaglio hanno portato a risultati elettorali disastrosi e a una crescente disillusione tra i cittadini utilizzando il contesto elettorale tedesco come esempio Travaglio critica la risposta dell'Occidente alla guerra in Ucraina la gestione della crisi economica e la mancanza di responsabilità della classe politica con il suo stile tagliente ed ironico come sempre Travaglio offre una riflessione provocatoria e stimolante su come la politica europea possa aver perso il contatto con la realtà e con le esigenze della popolazione vi invito a leggere l'intero editoriale sul fatto quotidiano per una visione completa per apprezzare appieno la sagacia di critica di Marco Travaglio restate con noi per ulteriori approfondimenti le nostre notizie flash e le analisi sui temi di rilevanza politica e sociale voglio sapere cosa ne pensate voi nei commenti di questo episodio e così apriamo un dibattito su questi temi al prossimo episodio di Radio Puggino Nero di Radio Puggino Nero di Radio Puggino Nero